Oggi qui negli studi del nostro Tg abbiamo una gradita ospite, un ospite che è un volto noto sul piano nazionale e un nome pesante e altrettanto noto. Stiamo parlando dell'onorevole Stefania Craxi che ci ha usato la cortesia in questo suo tour calabrese di essere qui con noi e di fare con noi una chiacchierata televisiva sui temi del momento. Però prima, ecco, curiosità, stasera lei è ad Ardore. Per fare cosa, onorevole? Sono al castello di Ardore per presentare La Notte di Sigonella, che è un libro edito da Mondadori e un docufilm che raccontano attraverso il racconto di Craxi e i documenti dell'archivio la storia di quella famosa notte di Orgoglio Nazionale. Mi pare che proprio su questo, nella nostra chiacchierata fuori onda con il mio vice direttore che è Stefano Mandarano, parlavamo proprio di questo. Io proprio cederei la parola a lui perché ci ponevamo appunto nella chiacchierata fuori onda questo momento che allora abbiamo vissuto, veramente ci siamo sentiti nazione e per la verità alla testa di quella nazione c'era uno statista riconosciuto da tutti e soprattutto da chi ha occhi per capire che significa uno statista. Stefano, a te la parola. Più che altro era proprio una riflessione sull'attualità di quel pensiero ma soprattutto di quel gesto che comunque mise in chiaro quanto fosse importante anche il ruolo politico che l'Italia poteva esercitare in quel momento sul piano della politica estera, qualcosa che torna di attualità oggi più che mai di fronte alle intromissioni, chiamone così, di alcuni stati o all'ingerenza se vogliamo, di alcuni stati esteri tra cui anche ancora una volta gli Stati Uniti rispetto ai temi della politica interna italiana, vedi il caso del referendum quindi delle dichiarazioni a favore da parte dell'ambasciatore americano in Italia. Ecco, rivedendo questi eventi alla luce di quello che fu il caso Sigonella all'epoca, qual è la riflessione che lei onorevole trae? Io credo che l'ambasciatore americano possa esprimere il suo parere in un mondo globalizzato, è giusto che anche le altre nazioni si interregono sul destino del nostro paese, altra cosa se di fronte a una democrazia fragile fossero delle dichiarazioni che influenzano lo scenario politico, ma questo dipende da noi. Quella volta Craxi fa tre cose importanti, salva oltre 500 passeggeri, quindi un gesto di umanità, un gesto di orgoglio nazionale, dice in Italia gli arresti li fanno i carabinieri italiani e non i Navy SEALS, l'orgoglio di una nazione che voleva essere trattata alla pari anche dal più grande alleato, gli Stati Uniti d'America, è un gesto di lungimiranza. Craxi intuiva che se l'Italia non avesse avuto ruolo nel Mediterraneo, cosa che oggi non ha, non avrebbe avuto alcun ruolo sullo scenario internazionale. Allora sì, rischiamo di essere una nazione agli ordini, anzi peggio, un'italietta. Da questo punto di vista Bettino Craxi fu un anticipatore, anche rispetto a quello che sta avvenendo nel Mediterraneo, perché lui riteneva che, come ha appena detto, l'Italia dovesse avere un ruolo, ma dovesse averlo l'Occidente nel governare alcuni processi del Mediterraneo. Lui da questo punto di vista era sensibilissimo, abbiamo scoperto poi tardi questa sua attenzione nei confronti del popolo palestinese, di tutto quello che rappresentava una polveriera. Craxi soprattutto in quegli anni fece questo grande lavoro per l'ONU, un rapporto sul debito dei paesi poveri. Che cosa diceva e cosa vedeva Craxi? Vedeva che se il mondo occidentale non avesse in quegli anni diminuito il divario enorme che ancora esiste tra il nord e il sud del mondo, il mondo dominato dalle disuguaglianze non sarebbe mai stato un mondo pacifico. Anche lì lui fu molto lungimirante, quanto inascoltato, ma io penso che la storia dirà che è stato Craxi. Su questo siamo convinti anche noi, anche perché assistiamo, e qui introduco qualche tema e poi darò la parola a Stefano, proprio perché nella politica nostrana il livello scende un po' e lei da questo punto di vista è andata sempre controcorrente. Non ha mai nascosto agli eredi del PC le responsabilità pesanti nella vicenda che ha riguardato suo padre, però poi al momento dell'elezione del Presidente della Repubblica lei fu tra le poche a schierarsi favorevolmente ad un'elezione di D'Alema e mi ricordo che lo fece diciamo proprio facendo un'analisi su quello che deve essere un uomo che ha una statura politica al di là del passato e al di là delle responsabilità. Guardi, D'Alema non è un uomo che purtroppo spesso ha torto anche quando ha ragione perché ha tali e tante responsabilità nel passato e soprattutto è stato spesso sconfitto. Detto questo è un uomo che ha le categorie della politica, cosa che oggi manca in quasi tutto lo scenario politico. Quando D'Alema e il Partito Comunista si rende responsabile non da solo naturalmente insieme a quei poteri finanziari che oggi comandano nel mondo, di distruggere il sistema dei partiti si è distrutto una cosa fondamentale per la democrazia italiana, la possibilità di selezionare veramente la classe dirigente politica. Si può dire quello che si vuole della Prima Repubblica ma quella nel suo complesso era una grande classe dirigente politica con esperienza, cultura e la capacità anche di assumersi responsabilità. Tutt'altra cosa del populismo di oggi che infesta tutte le forze politiche, chi più chi meno. Manda Natti. Arrestando sui temi della politica interna, quindi quelli dell'attualità del referendum, insomma lei è alla guida di un movimento che si chiama i riformisti, ma questa riforma però non convince neppure i riformisti o sbaglio? Noi siamo qui della grande riforma che era tutt'altra cosa, era un disegno che Craxi aveva in mente di una riforma che investisse tutti i campi del nostro vivere civile, sociale, politico e istituzionale. Però io credo che bisogna un po' uscire dal pericolo dell'utilizzo di categorie ideologiche che sono sia dei comitati del sì che dicono le riforme sono buone a prescindere dal loro contenuto, cosa che io non credo, ma anche da alcuni comitati del no che dicono la nostra è la più bella costituzione del mondo e quindi non si tocca. Io credo che invece bisogna ragionare e soprattutto capire se questa riforma risponde alle necessità dei cittadini e delle loro istituzioni. Io penso di no. Penso di no, tant'è che faremo a giorni, abbiamo fatto con Stefano Caldoro un nuovo PSI, un comitato per il no, pensando che non è vero come dicono che l'indomani non si cambierà più niente, pensando che invece sia giusto immediatamente dopo promuovere un referendum tra i cittadini per sapere qual è la forma di governo che vogliono, parlamentare, presidenziale, il premierato. Noi pensiamo che serva una riforma che dia governabilità, stabilità, ma che dia la parola al popolo. Una riforma dove ancora una volta decidono le segreterie dei partiti, come sarebbe questa di Renzi, che hanno dato lo spettacolo che hanno dato in questi anni, in questi mesi, credo che sia una riforma sbagliata. Non risolve uno dei problemi italiani, non riequilibria lo squilibrio tra i poteri dello Stato, non velocizza il sistema di legislazione, perché in realtà i contenzioni con le regioni aumenteranno moltissimo e soprattutto esporò proprio un'altra volta i cittadini dal poter decidere. Quindi, diciamo, lei respinge questa semplificazione in qualche modo che soprattutto Renzi sta facendo in queste ore. Chi è col no è un conservatore e chi è col sì invece è un innovatore. Ecco, lei diceva che non risponde alle esigenze del Paese. Anche lì Bettino Gracchi fu un anticipatore, perché parlò dei temi legati al maggioritario, al presidenzialismo, al semipresidenzialismo, non da ora, ma quasi 30 anni fa, ormai è addirittura quando, questo è storico, quando ne parlò lo accusarono quasi di fascismo, diciamo, perché oggi poi siamo arrivati a quello che in qualche modo sosteneva. Ecco, secondo lei alcune cose per dare conferma alle esigenze che questo Paese ha, di cui lei parlava, quale sarebbero alcune riforme? Io credo il presidenzialismo sia una buona forma di governo, nel senso che consegna, sulla base di un programma preciso, a un Presidente la possibilità di governare per quattro anni, ma consente allo stesso momento di scegliere ai cittadini chi sarà quel Presidente. Io credo che quella, per esempio, è stata una grande intuizione di Craxi ancora attuale. L'altro grande avvertimento che lanciava Craxi in quegli anni era lo squilibrio dei poteri non porterà niente di buono. È possibile che fare una grande, si può fare una riforma, una grande riforma istituzionale senza toccare la riforma della giustizia? Altra cosa che io credo non sia possibile. Quindi io ritengo questa una riformicchia che non porterà nulla di buono, una riforma che deforma il sistema senza dare una risposta vera. Spostando un po' l'asse sulla politica ancora più spinta, abbiamo parlato delle realtà di Craxi, parliamo di quella di Berlusconi. Chi la raccoglierà nel centrodestra? Avranno la meglio le spinte populiste, definiamone così, di Matteo Selvini o il profilo più moderato di Parisi. Io credo che finché c'è Berlusconi, l'erità di Berlusconi è ancora nelle mani di Berlusconi. Credo soprattutto a un certo punto bisognerà porsi il tema di come riorganizzare un sistema politico attorno delle regole, come riorganizzare i partiti attorno delle regole, quindi delle idee, dei tavoli dove discuterle e dove queste idee vanno pesate. Quindi le idee poi si porteranno presso gli uomini, ma soprattutto il tavolo di gioco e quindi io penso che l'erede di Berlusconi oggi non ci sia. Penso che il populismo sia l'aviltà delle classi dirigenti di non assumersi responsabilità. Penso però altrettanto che bisognerà ricostruire delle regole, perché nella prima repubblica delle regole c'erano. Il tema del populismo è un tema sul pezzo, diremmo noi, perché è indubbio che 5 Stelle raccolgono mai un terzo del consenso, almeno quello attuale. Però le cose che propongono sono a quanto discutibili, poi c'è anche una certa violenza verbale. Spesso però noi raccogliamo anche tra gli appartenenti ai sistemi politici tradizionali che sono messi in discussione dal Movimento 5 Stelle questa tematica, cioè puntare sulle corde del populismo per acquisire consenso all'interno della coalizione di destra o all'interno di quella di sinistra. Insomma, lo stesso Renzi ha preso il potere nel PD sulle corde dell'antipolitica, la rotta mazione e tutto quant'altro. Cosa pensa di questo fenomeno? Intanto penso che molti guasti gli abbia fatto in questi anni questo bipolarismo muscolare che ha disabituato al ragionamento politico e ha creato delle tifoserie che non fanno che scontrarsi, utilizzando anche un linguaggio violento, non solo i 5 Stelle. L'altra cosa che penso è che il Movimento 5 Stelle sia come la febbre durante l'influenza. Il sistema politico è malato e quindi il Movimento 5 Stelle è la febbre che segnala questa malattia. Finché non si ricostruirà un sistema politico con regole degne di questo nome, la febbre non scenderà. L'altra cosa che penso è questa, che giù una forza popolare deve raccogliere il sentimento popolare, le esigenze dei cittadini, ma poi deve essere in grado di dare delle risposte. Se una forza politica o un politico si limita a dare voce al sentimento magari appunto di paura piuttosto che di disagio dei cittadini, beh, cambi mestiere. Un politico o una forza politica deve a questi sentimenti dare delle risposte. Interessante secondo me, anche perché tra le righe emerge, diciamo, già un giudizio di merito, capire il suo pensiero rispetto al renzismo come categoria della politica, come, diciamo, fenomeno più culturale che politico all'interno appunto degli equilibri partitici italiani. Qual è la sua idea su questo? Ma io di culturale lì non vedo assolutamente niente. Vedo nel complesso una classe dirigente inadeguata e un imbonitore che deve vendere la poca merce che ha cambiando linguaggio a ogni piazza che affronta. Il culturale ovviamente era inteso in senso molto lato, in senso specifico. Dopodiché il giovanilismo non è di per sé un valore, ci sono giovani impreparati, inadeguati e ci sono persone che hanno età, che hanno esperienza, intelligenza e saggezza. Quindi al pari di altri fenomeni politici... Come la storia delle quate rosa, no? Io penso che sia meglio scegliere le quate dell'intelligenza. Ecco, è un concetto su cui si trova d'accordo. Invece vorrei tornare su un tema che mi è molto caro perché questi anni abbiamo fatto tante battaglie sul fronte dei famosi garantisti che siamo sempre in lotta contro la situazione che è quella che abbiamo appena detto. Renzi per esempio vanta di avere fatto una riforma sulla giustizia, di avere introdotto l'elemento dell'esercimento civile, però poi non è che abbiamo palpato tutti i giorni questa questione. Renzi garantisca talgerterne a seconda di chi viene colpito magari da un'ingiustizia. La riforma della giustizia non ha visto la luce e io credo che sia fondamentale perché un paese che non è in grado di dare giustizia ai propri cittadini, non al politico, ai cittadini, è un paese che non funziona. Una magistratura divisa in correnti politiche è una caricatura della giustizia e io credo che invece alla giustizia bisogna rendere il suo compito non di arma politica ma di servizio a tutela delle ragioni del cittadino. Questo non l'ha fatto ancora nessuno, non la fece Berlusconi e non l'ha fatto Renzi. Io non so se ci avviamo verso la conclusione, vorrei chiudere con una nota, diciamo, una curiosità personale anche. Insomma la famiglia Craxi, siamo in Calabria, so che c'è comunque un rapporto datato, storico, ecco lei è la figlia di questo grande leader politico, insomma come ha vissuto questo rapporto con la nostra regione? Beh, intanto io sono di origini messinesi, san fratellana e quindi sarei una di rimpettaia, la mia famiglia viene da lì, però io sono molto legata alla Calabria che è stata una regione molto socialista, conservo ancora molti amici, mi piace ritornare tant'è che ritorno spesso. Penso che sia una grande regione, penso che non manchi ai calabresi la capacità di produrre idee, la volontà di conquista, penso che bisogna dare ai calabreri l'opportunità e le regole per poterlo fare. Se ci fosse un Mediterraneo pacifico, stabile, luogo di incontro e di scambi, sarebbe una grande opportunità per la Calabria. Mio padre aveva una grande idea per la Calabria e la Sicilia, una grande capitale chiamata Mediterranea tra Reggio e Messina. Dichiararla a Porto Franco sarebbe stato l'Hong Kong del Mediterraneo, avrebbe dato uno slancio alla regione Calabria, quella siciliana enorme, enorme, sarebbe diventato un centro di traffici mediterranei, però uomini politici che hanno ancora visioni, io guardandomi intorno non ne vedo. Insomma io credo che questa sia la degna conclusione anche perché riprendendo questa idea di Bettino Craxi per la Calabria, pensate un po', adesso si comincia a discutere di aria metropolitana ma è ancora tutta sul fronte calabrese, insomma queste due città che si guardano, Messina e Reggio che potrebbe rappresentare un'area quasi di un milione di abitanti, dove ancora non c'è. Ecco io penso che questa proposta che ha riproposto l'onorevole Stefania Craxi che era una proposta di Bettino Craxi bisognerebbe trasmettere da chi insomma ancora governa e nel tentativo di recuperare una visione politica che manca. Una sola battuta le chiedo, proprio in virtù questa sera lei insomma andrà a presentare questo libro e questo è un fatto importante, le nuove generazioni debbono conoscere, sapere cosa è avvenuto, cosa è stato diciamo quella notte e che cosa ha significato per il nostro Paese. Ma una parola di speranza ecco perché alle nuove generazioni possono avvicinarsi al mestiere della politica, all'arte della politica, alla soprattutto devozione per la politica. La politica è dura, è complicata, bisogna ricominciare facendo la gavetta nella periferia e nel territorio però è occuparsi del proprio futuro, quindi io penso che i giovani non debbano spaventarsi la politica, bisogna anche però ristabilire delle regole per cui i migliori tornino ad avvicinarsi alla politica. Anche tutto questo populismo, questa antipolitica, questo continuare a svilire la politica e a renderla a servizio di altri poteri non ha fatto bene al sistema democratico. Però io credo, ho molta fiducia nei giovani, non manca ai giovani italiani l'intelligenza, il coraggio, la fantasia per potersi fare avanti. Io ringrazio l'onorevole Stefania Craxi perché ha voluto oggi iniziare questo suo tour calabrese venendo qui nei nostri studi e regalandoci una bella pagina a noi di giornalismo ma anche di politica perché l'onorevole Stefania Craxi si sente che è portatrice di una eredità di consistente e bella politica che noi ci auguriamo possa riprendere in tutto il paese. Ringrazio il collega Stefano Mandarano per avermi sopportato in questo incontro e noi speriamo di riaverla al più presto qui da noi. Grazie, grazie tante. Grazie.